Capitolo quindicesimo Le nubi si addensano E adesso torniamo a Bilbo e ai nani. Avevano fatto la guardia a turno per tutta la notte, ma giunse il mattino senza che avessero udito o visto alcun segno di pericolo. Eppure gli uccelli andavano ammassandosi sempre più fitti. Giungevano in volo da sud, a stormi compatti, e i corvi, che ancora vivevano intorno alla montagna, continuavano a volteggiare e a berciare sopra di loro. Sta accadendo qualcosa di strano, disse Thorin. Il tempo delle migrazioni autunnali è finito e questi sono comunque uccelli stanziali ed usciami di fringuelli e di storni e laggiù, più lontani di tutti, ci sono nuguli di avvoltoi, come se fosse in corso una battaglia. D'un tratto Bilbo indicò qualcosa. C'è ancora quel vecchio tordo, esclamò. Deve essersi salvato quando Smaug ha distrutto il fianco della montagna, ma immagino che le chiocciole non abbiano fatto altrettanto. E in effetti il vecchio tordo era lì e, quando Bilbo lo indicò, volò verso di loro e si appollaio su una pietra lì accanto. Poi sbatté le ali e cantò. Poi piegò il capo di lato, come per ascoltare. E da capo cantò. E da capo ascoltò. Credo che stia cercando di dirci qualcosa, disse Balin, ma non riesco a seguire l'idioma di questi uccelli. È troppo complicato e veloce. Tu ci capisci qualcosa, Beckins? Non molto, rispose Bilbo. In realtà non ci capiva assolutamente niente. Ma il nostro amico sembra molto eccitato. Quanto vorrei che fosse un corvo imperiale, disse Balin. Credevo che non ti piacessero. Sembravi alquanto infastidito dalla loro presenza la prima volta che ci siamo venuti da queste parti. Ma quelli erano corvi, creature sinistre e odiose, e per giunta villane. Avrai sentito anche tu le parolacce che ci gridavano dietro. I corvi imperiali sono tutt'altra cosa. C'era una grande amicizia tra loro e il popolo di Tror. Spesso ci portavano notizie segrete e venivano ricompensati con oggetti luccicanti e si chiamavano nascondere nelle loro dimore. Vivono molto a lungo, hanno memoria di cose antiche e tramandano la propria saggezza ai figli. Conoscevo molti corvi imperiali della montagna quando era ancora un giovane enano. Un tempo, questa stessa altura, si chiamava Colle Corvo perché una saggia e stimata coppia di corvi imperiali, il vecchio Kark e sua moglie, viveva qui, sopra la Guardiola. Ma penso che ormai nessun esemplare di quell'antica razza, abiti ancora qui. Aveva appena finito di parlare quando il vecchio tordo emise un trillo acuto e volò via. Noi possiamo anche non capirlo, ma sono certo che quel vecchio uccello capisce noi, disse Balin. Adesso teniamo gli occhi aperti e vediamo cosa succede. Di lì a poco ci fu un frullo d'ali ed ecco tornare il tordo. Con lui c'era un altro uccello, molto anziano. Era quasi cieco, volava a stento e aveva la sommità del capo calva. Era un vecchio corvo imperiale di grandi dimensioni. Si posò a terra davanti a loro, raccolse lentamente le ali e saltellò verso Thorin. Oh Thorin, figlio di Trayn e Balin, figlio di Fundin, gracchiò e Bilbo pote capire quello che diceva poiché usava la lingua corrente e non l'idioma degli uccelli. Io sono Roak, figlio di Kark. Kark è morto, ma un tempo voi, nani, lo conoscevate bene. Sono passati 153 anni e mezzo da quando sono uscito dall'uovo, ma non ho mai dimenticato gli insegnamenti di mio padre. Adesso sono il capo dei grandi corvi imperiali della montagna. Siamo in pochi, ma ricordiamo ancora il re del tempo antico. Molti di noi si sono allontanati perché a sud ci sono grandi novità. Alcune vi riempiranno di gioia, altre non vi parranno tanto buone. Ascoltatemi bene, gli uccelli stanno tornando da sud e da est e da ovest verso Conca e la montagna perché si è diffusa la voce che Smaug è morto. Morto? Morto? Urlarono i nani. Morto? Allora ci siamo spaventati inutilmente e il tesoro è nostro! Balzarono tutti in piedi e cominciarono a far capriole di gioia. Sì, morto! disse Roak. Il tordo, che le sue penne non cadono mai, l'ha visto morire e possiamo credere alle sue parole. L'ha visto cadere durante la battaglia contro gli uomini di Esgaroth tre notti fa al sorgere della luna. Ci volle un bel po' prima che Thorin riuscisse a convincere i nani a star zitti e ascoltare le notizie del Corvo Imperiale. Questi, dopo aver raccontato come si era svolta la battaglia, continuò. Questo per quanto riguarda la gioia, Thorin, scudo di quercia. Potete tornare alle vostre sale senza alcun timore. Il tesoro è tutto vostro per il momento. Ma molti stanno accorrendo qui, a parte gli uccelli. La notizia della morte del guardiano si è già sparsa in lungo e in largo e la leggenda della ricchezza di Thoror è più viva che mai grazie ai racconti che si sono fatti in tanti anni. Sono in tanti a bramare una parte del bottino. Una schiera di elfi è già in marcia e gli avvoltoi li seguono sperando che ci siano battaglia e carneficina. Sul lago gli uomini mormorano che le loro penne sono dovute ai nani poiché non hanno più una casa. Molti di loro sono morti e Smaug ha distrutto la loro città. Anche essi pensano di risarcirsi col vostro tesoro che voi siate vivi o morti. Spetta solo la vostra saggezza a decidere il daffarsi ma tredici è un piccolo avanzo del gran popolo di Durin che un tempo dimorava qui e che ora è disperso lontano. Se volete seguire il mio consiglio non fidatevi del governatore degli uomini del lago e fidatevi piuttosto di colui che ha ucciso il drago con il suo arco. Il suo nome è Bard della stirpe di Conca discendente di Jirion. È un uomo rude ma sincero. Ci piacerebbe vedere tornare la pace tra nani, uomini ed elfi dopo la lunga desolazione ma potrebbe costarvi molto oro. Non ho altro da dire. Allora Torrin sbottò furibondo. Ti ringraziamo Roak figlio di Kark. Tu e il tuo popolo non sarete dimenticati ma finché siamo vivi il nostro oro non ci verrà tolto né col furto né con la violenza. Se vuoi meritare ancora di più la nostra gratitudine portaci notizie di chiunque si avvicini. Inoltre ti pregherei se alcuni di voi sono ancora giovani e hanno ali possenti di mandare messaggeri ai nani delle montagne settentrionali sia ovest sia est di qui e di informarli della nostra situazione. Ma soprattutto manda qualcuno da mio cugino Dain nei colli ferrosi. Ha molti sudditi ben armati ed essendo il più vicino può raggiungerci prima di chiunque altro. Ordinali di affrettarsi. Non dirò se questa decisione è buona o cattiva gracchiò Roak ma farò ciò che sarà possibile fare e volò via sbattendo stentatamente le ali. Adesso torniamo sulla montagna gridò Torrin non c'è tempo da perdere né cibo da rovere esclamò Bilbo sempre pratico riguardo a quell'argomento. D'altra parte lo Hobbit era convinto che la sua avventura a rigor di logica fosse finita con la morte del drago sul che si sbagliava di grosso e avrebbe rinunciato a gran parte della sua ricompensa in cambio di una composizione pacifica di quelle controversie. Torniamo sulla montagna gridarono i nani come se non l'avessero udito perciò gli toccò tornare con loro. Poiché siete già al corrente di parte dell'accaduto vi è chiaro che i nani avevano ancora alcuni giorni davanti a sé. Esplorarono da capo le caverne e come si aspettavano trovarono che solo la porta principale era rimasta aperta. Tutti gli altri accessi eccetto ovviamente la porticina segreta erano stati distrutti e ostruiti da Smaug tanto tempo prima e non restava traccia. Perciò si misero freneticamente all'opera per fortificare l'entrata principale per costruire un nuovo sentiero che partisse da lì. Fu facile per loro reperire una gran quantità di attrezzi usati dai minatori cavapietre e muratori del passato e i nani erano ancora abilissimi a fare quel tipo di lavoro. Mentre lavoravano i corvi imperiali li rifornivano costantemente di notizie. Così appresero che il re degli elfi aveva cambiato strada dirigendosi verso il lago e che avevano ancora tempo per rifiatare. Meglio ancora seppero che tre dei loro poni erano scampati e vagavano allo stado brado lungo la riva del fiume fluente non lontano da dove avevano lasciato il resto delle provviste. Così mentre gli altri procedevano col lavoro Fili e Chili con la guida di un corvo imperiale furono mandati a cercare i poni e a riportare indietro tutto quel che potevano. Tra scorsi quattro giorni vennero a sapere che le schiere reunite degli uomini del lago e degli elfi stavano marciando a tappe forzate verso la montagna. Ma adesso le loro speranze si erano irrobustite. Con un po' di attenzione infatti il cibo che avevano sarebbe bastato per qualche settimana si trattava per lo più di cram ovviamente e ne erano nauseati ma anche il cram è meglio di niente e la porta era già bloccata da un muro molto spesso e alto formato da pietre squadrate che avevano poggiato l'una sull'altra per ostruire completamente il passaggio. Nel muro avevano poi scavato alcuni fori attraverso i quali si poteva guardare fuori o lanciare frecce ma non si poteva passare. Entravano e uscivano servendosi di scale a pioli e issavano i materiali tramite corde. Per permettere il deflusso del fiume avevano progettato un basso archetto sotto il nuovo muro ma vicino allo sbocco avevano alterato il suo letto angusto fino a creare una pozza larga e profonda che si stendeva dal fianco della montagna all'inizio della cascata con cui il fiume scendeva verso Conca. Adesso l'accesso alla porta era possibile solo a nuoto o lungo una stretta cornice rocciosa sulla destra guardando la valle. Avevano portato i poni fino ai primi gradini sopra il vecchio ponte e lì dopo averli scaricati avevano ordinato loro di tornare dai loro padroni e li avevano rimandati a sud senza nessuno in groppa. Venne poi una notte in cui un brulichio di luci come di falò e torce comparve all'improvviso nella valle di Conca. Sono arrivati gridò Balin e il loro accampamento fiume. Quella notte i nani dormirono poco. Il mattino era ancora pallido quando videro avvicinarsi un plotone in avans coperta. Da dietro al muro osservarono i nuovi venuti risalire la vallata e cominciare lentamente la scalata. Quando furono abbastanza vicini videro che tra loro c'erano sia uomini del lago armati come per una guerra sia arcieri elfici. Di lì a poco i soldati scalarono le rocce e apparvero in cima alla cascata ed enorme fu la loro sorpresa nel vedersi davanti la pozza e la porta bloccata da un muro di pietre squadrate di fresco. Mentre indugiavano indicando la porta e parlando tra loro Thorin li interpellò Chi siete? gridò a gran voce voi che venite come in guerra alle porte di Thorin figlio di Trane re sotto la montagna e cosa volete? Ma essi non risposero alcuni tornarono subito indietro gli altri dopo esser rimasti per un po' a scrutare la porta le sue difese li seguirono di lì a poco quel giorno l'accampamento fu spostato a est del fiume proprio in mezzo ai bracci della montagna le rocce echeggiarono di voci e dolci melodie e quando l'eco lo portò in alto verso di loro fu come se il freddo dell'aria si scaldasse e li avvolgesse in una vaga fragranza di fiori di posco sbocciati in primavera allora Bilbo sentì il desiderio di scappare da quella scura fortezza per unirsi all'allegria e festeggiamenti intorno ai fuochi anche alcuni dei nani più giovani si sentirono toccare il cuore e brontolarono che avrebbero voluto trovarsi in ben altra situazione per poter accogliere quella gente in amicizia ma Thorin si accigliò allora anche i nani tirarono fuori le arpe e gli strumenti recuperati dal tesoro e cominciarono a far musica per addolcire l'umore di Thorin ma il loro canto non era sotto il monte alto e abbuiato il re nella sua sala è ritornato morto è il nemico verme del terrore e gli altri come lui avranno lo stesso fatto la lunga lancia e una spada accorta la freccia lesta e la robusta porta l'ardito cuore di chi ha loro bada saranno dai nani l'invincibil scorta facea i nani un dì grandiose gesta battendo mazze qual campane a festa dove dorme laggiù tetra un mistero negli antri sotto la rocciosa cresta trapuntavan di stelle le collane i certi con baglior di drago in mane e da un ritorto filtra evan dall'arpe di melodiose note voci arcane del monte il trono liberato abbiamo odi disperso popolo il richiamo attraverso le lande qui accorrete amici chiede il re non lo lasciamo giungan di là dai monti i nostri appelli tornate nei vostri antichi ostelli alle porte c'è il re che ora vi aspetta con mani colme d'oro e di gioielli il re nella sua sala è ritornato giù sotto il monte alto è abuiato il verme del terrore è sgominato gli altri nemici avranno lo stesso fatto quella canzone sembrò piacere a Thorin che tornò a sorridere allegramente e si mise a calcolare la distanza che li separava dai colli ferrosi e il tempo che sarebbe servito a Dain per raggiungere la montagna solitaria se fosse partito appena il messaggio lo avesse raggiunto Bilbo invece si sentì gelare il sangue sia per la canzone sia per le parole di Thorin sapevano troppo di guerra l'indomani mattina di buon'ora una compagnia di lanceri fu vista attraversare il fiume e risalire la vallata portavano con sé il grande stendardo del re degli elfi e l'azzurro stendardo del lago e avanzarono fino a fermarsi davanti al muro della porta di nuovo Thorin li interpellò a gran voce chi siete voi che venite questa volta gli fu risposto si fece avanti un uomo alto scuro di capelli e buio in volto e gridò salute a te Thorin perché ti barrichi come un ladro nel suo covo non siamo ancora nemici e ci rallegriamo che siate vivi al di là di ogni nostra speranza eravamo venuti con la convinzione di non trovare nessuno tuttavia ora che ci siamo incontrati abbiamo alcune questioni su cui parlamentare chi sei tu e di cosa vorresti parlamentare io sono bard e per mano mia il drago fu ucciso e il vostro tesoro salvato non è forse una questione che ti riguarda inoltre sono per diritto ereditario il successione di girion di conca e nel suo tesoro è mischiata gran parte delle ricchezze della sua città e dei suoi palazzi depredati a suo tempo da Smaug non è forse una questione di cui potremmo parlare inoltre nella sua ultima battaglia Smaug ha distrutto le dimore degli uomini di Esgaroth e io sono ancora al servizio del loro governatore vorrei parlare in suo nome e chiederti se non ti sfiori il pensiero del dolore e della sventura del suo popolo quella gente ti ha soccorso quando eri in pericolo e tu finora li hai portato in cambio solo rovina anche se non l'hai fatto certo apposta erano parole leali e veritiere anche se pronunciate con fiera sprezza e Bilbo pensò che Thorin non avrebbe indugiato a riconoscere la legittimità ben inteso lo hobbit non si aspettava che qualcuno ricordasse che era stato lui da solo a scoprire il punto debole del drago e faceva bene visto che nessuno vi accennò ma non faceva i conti né con il potere dell'oro precedenti Thorin aveva passato lunghe ore nella sala del tesoro ed era oppresso dalla brama di possederlo pur cercando soprattutto l'archengemma aveva messo gli occhi su tante altre meraviglie ammassate laggiù splendidi oggetti che suscitavano in lui antichi ricordi delle fatiche e dei dolori della sua stirpe presenti per ultima la tua istanza peggiore e col maggior rilievo rispose Thorin sul tesoro del mio popolo nessuno può vantare diritti solo perché sia stato privato della vita o della casa dallo stesso drago che ha privato noi dell'oro il tesoro non era di Smaug dunque le sue scelleratezze non vanno risarcite con una parte di quel bottino il prezzo delle merci e dell'assistenza che abbiamo ricevuto dagli uomini del lago verrà generosamente ripagato a tempo debito ma non daremo niente neanche il valore di una pagnotta sotto la minaccia della forza finché una schiera armata sarà davanti alle nostre porte vi considereremo ladri e nemici vorrei anche chiedere quale parte della loro eredità avreste riconosciuto ai nostri parenti se aveste trovato il tesoro incustodito e noi uccisi domanda domanda appropriata replicò bard ma voi non siete morti e noi non siamo ladri inoltre i ricchi possono trattare con più generosità del dovuto i bisognosi che li abbiano trattati da amici quando erano alle strette e le altre mie richieste non hanno ancora avuto risposta come ho detto non parlamenterò con uomini armati alla mia porta e tantomeno parlamenterò con il popolo del re degli elfi di cui conservo un ricordo spiacevole in questa discussione loro non c'entrano affatto adesso vattene prima che fischino le nostre frecce e se vorrai parlarmi di nuovo prima rimanda le truppe degli elfi nei boschi cui appartengono e poi torna ma deponi le armi prima di avvicinarti alla soglia il re degli elfi è mio amico e ha soccorso gli uomini del lago nel momento del bisogno pur non avendo nei loro confronti alcun dovere oltre quello dell'amicizia replicò Bard ti daremo tempo per pentirti delle tue parole fa appello al buonsenso prima del nostro ritorno poi si voltò e ridiscese verso l'accampamento prima che fossero trascorse molte ore gli ambasciatori tornarono i trombettieri si fecero avanti e si annunciarono con uno squillo in nome di Esgaroth e della foresta gridò uno dei messi parliamo a Thorin scudo di quercia figlio di train che chiama se stesso re sotto la montagna e li intimiamo di considerare seriamente le richieste che sono state avanzate altrimenti verrà dichiarato nostro nemico dovrà consegnare almeno un dodicesimo del tesoro a Bard in quanto uccisore del drago ed erede di Girion con quella porzione Bard contribuirà egli stesso ad aiutare Esgaroth ma se Thorin vorrà avere l'amicizia e il rispetto delle terre qui intorno come l'avevano nel passato i suoi antenati dovrà aggiungere qualcosa di suo per soccorrere gli uomini del lago allora Thorin tese un arco di corno e scoccò una freccia contro il messo la freccia colpì il suo scudo e vi rimase conficcata vibrando giacché questa è la tua risposta gridò di rimando il messo dichiaro sotto assedio la montagna non ve ne andrete da qui finché non ci chiederete una tregua e un parlamento non prenderemo le armi contro di voi ma vi lasciamo al vostro oro mangiate quello se volete detto questo i messaggeri si allontanarono velocemente e i nani furono lasciati a meditare sulla loro situazione Thorin si era talmente inasprito che se anche avesse voluto gli altri nani non avrebbero osato criticarlo in realtà sembrava che la maggior parte di loro condividesse la sua opinione tranne forse il vecchio grasso bombur fili e chili Bilbo ovviamente non era d'accordo sulla piega che aveva preso la faccenda ormai non ne poteva più della montagna e l'idea di essere assediato lì dentro non era affatto di suo gusto questo pozzo puzza ancora di drago pronto l'ho trassesse e mi fa venire la nausea e il cram non riesco neanche più a inghiottirlo a inghiottirlo a inghiottirlo a inghiottirlo